Sindaca infuriata per questa storia di Lanzalone. Guardi è vergognoso, ho letto questa mattina la rassegna stampa, è vergognosa, i giudici dicono che io non c'entro niente, non c'è un giornale che abbia avuto il coraggio di riportare questa notizia. Allora, il Comune, i Romani e la società Roma Calcio sono la parte lesa, partono oggi le querele. Lanzalone però era un uomo scelto dai vertici di 5 Stelle, è per questo che è infuriata.